ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale torniamo a spacchettare calciatori panini 2023 2024 dall'ultimo video che era lo speciale della befana se ve lo siete persi vi invito a andarvelo a recuperare cosa c'era all'interno della calza la scatolina eccola qui per tenere le nostre figurine c'entrano solo le figurine non le adrenalin ragazzi quindi questa è dedicata in particolare alle figurine oggi 11 pacchetti da dove li ho presi raga da un po di starter perché dovevo prendere qualche pacchetto e quindi mi sono andato a prendere degli starter quindi ho ricompletato per la seconda volta il set delle card delle gol machine in più altre due quindi poi magari prossimamente andrò alla ricerca di un altro berardi per completare un altro set tanto il costo era quello sì non so più dove mettere album ma questa è un'altra storia poi magari li regalerò quando venderò qualcosa più la magari me li tengo chissà detto questo oggi top 11 e tanto che non ci facciamo una top 11 quindi non perdiamo tempo iniziamo subito a spacchettare e partiamo partiamo ma sì dai partiamo dal portiere che è sempre quella più difficile perché ovviamente non è detto che troveremo un portiere vediamo vediamo un po allora abbiamo beresischi bonaventura shomurodov e poi ft del genoa il qr code dell'inter eccolo qui per voi che ho visto sotto del milan teo hernandez e poi abbiamo la squadra della samp e tre giocatori del modena come detto quindi raga nessun portiere quindi ma sì dai andiamoci a mettere teo hernandez e come portiere non ci ha detto benissimo perché ci abbiamo messo teo che non entra nell'inquadratura ma eccolo qui quindi andiamo con la linea difensiva vediamo chi troviamo partiamo da rasvan marin dell'empoli gendrei dell'ecce grassi dell'empoli sec del torino poi abbiamo il qr code della ternana tre giocatori dell'ascoli gli sports di empoli e fiorentina e la squadra del frosinone unico difensore del pacchetto gendrei quindi ci andiamo a mettere proprio lui andiamo con l'altro braccetto in questo caso di sinistra vediamo chi troviamo partiamo da lazari della lazio quindi intanto un difensore anche se è più magari un giocatore di fascia gagliardini pedersen doglie poi abbiamo il qr code della bari eccolo qui lo stemma delle c'è sempre molto belli gli stemmi un altro stemma due stemmi nello stesso pacchetto quello del frosinone anche quello del frosinone molto bello e tre giocatori del sul tirol come difensori all'interno di questa bustina pedersen e lazari vado a scegliere lazari dai quindi difensore centrale ovviamente raga il ruolo se non ve lo ricordate lo vedete chiaramente da qui rosso difensore verde attaccante e arancione centrocampista quindi andiamo a continuare lo spacchettamento magari provate anche voi raga se riuscite a spacchettare tutte insieme 11 bustina a fare una vostra top 11 inviate su instagram magari taggate mi che io vi ritaggo metto le vostre foto vedete centrocampista zaccagni perché in questo caso è considerato centrocampista milan femminile poi abbiamo serdar del verona una figurina girata che la metto sotto chissà chissà perché girata il qr code del grifone del genoa poi abbiamo tre giocatori del pisa la squadra del venezia con questa maglia sempre stupenda tre giocatori della ternana andiamo a vedere quella girata che è smolling perfetto raga perfetto e ci andiamo a mettere proprio lui passiamo dunque alle fasce partiamo dalla fascia destra vediamo chi troviamo mi sembra pessina si partiamo dunque con pessina intanto ci mettiamo lui gollini primo portiere ci potremmo andare a mettere lui brancolini altro portiere inter femminile poi abbiamo il qr code della lazio eccolo qui la squadra dell'empoli poi abbiamo tre giocatori della samp tre giocatori dello spezia ci andiamo a mettere dunque pessina passiamo all'altra fascia vediamo chi troviamo e abbiamo yancto e poi lico giannis cristovic silvestri un altro qr code della lazio che c'era appena uscito la squadra di ancona ed arezzo lorenzo luca nuova firma mamma mia raga ma vi ricordate qualche anno fa quando sembrava non si potesse collezionare se non si aveva la figurina di lucca la rookie di lucca fu impressionante live che c'era intorno a questo giocatore poi oggi sicuramente si sta facendo un pochino più le ossa e sicuramente diventerà magari anche un giocatore forte ma ricordo quell'anno forse un paio di anni fa c'era un interesse intorno alla rookie di lucca impressionante come centrocampista c'è uscito ianto però lico giannis sulla fascia sinistra mi sembra più adatto quindi facciamo uno strappo alla regola e ci andiamo a mettere lico giannis sulla fascia passiamo ai due centrocampisti andiamo un pochino più veloce perché mi voglio concentrare sull'attacco partiamo da sorrentino del monza il mister claudio ragneri e permettetemi di metterlo qui a fianco perché sarà il mister della nostra squadra duda posh il qr code della feral pisalò tre giocatori del cittadella la squadra del lecce la squadra del pisa unico centrocampista duda quindi ci andiamo a mettere proprio lui vediamo chi sarà il suo compagno di reparto vedo udinese vediamo chi è joao ferreira poi abbiamo daniele rugani della juve sommer dell'inter lorenzo venuti qr code della fiorentina tre giocatori del como tre giocatori del cosenza e la squadra del pisa incredibile ma nessun centrocampista pacchetto praticamente full difensivo quindi dai mettiamoci i rugani centrocampo bello tosto difensivo speriamo di poterci sbilanciare magari con questi tre attaccanti se non vedo male è successo ed è proprio così quindi già partiamo da un attaccante che visto come sta andando non è affatto male fiorentina prove del della lazio di marco dell'inter il qr code del cosenza ul avete visto eccolo qui lo stemma della roma che ancora non mi era uscito spettacolo raga spettacolo tre giocatori della samp che c'erano appena uscite il che ricordo ricci tre giocatori dell'ascoli lasciamo quindi success andiamo anzi no andiamo prima sull'altro esterno e ci teniamo la punta quello che ci dovrà portare i gol di questa formazione alla fine e abbiamo bastoni pongracic pezzella dai un attaccante raga pedro per era tutti difensori incredibile quando ci serve l'attaccante escono solo difensori qr code per voi della reggiana quattro scudettini anzi otto scudettini con la spalla che purtroppo veramente una caduta verticale in questi anni e tre giocatori del pisa raga incredibile altri tre difensori con bastoni che è praticamente quasi un difensore mettiamoci bastoni andiamo dunque alla scoperta dell'attaccante vediamo se ci salva questa formazione vediamo un po ragazzi servirebbe proprio un attaccante di quelli top top del nostro campionato magari il capo cannoniere proprio lautaro vediamo vediamo zortea banda sale maker defray poi abbiamo il qr code del pisa squadra del cagliari tre giocatori del parma e lo scudettino di ascoli e bari ci andiamo a mettere dunque banda essendo l'unico attaccante di questo pacchetto formazione che non è proprio uscito chissà quale top 11 ma permettetemi un unico cambio ovvero vado a mettere summer in porta raga almeno mettiamo un portiere fatemi sapere sotto nei commenti secondo voi questa formazione questa top 11 dove arriverebbe nel campionato italiano detto questo a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che siete arrivati fino alla fine del video e io vi auguro una buona giornata raga secondo me lottiamo per la salvezza e nemmeno lo so se riusciremo a salvarci con questa top 11 voi che dite a a